Aloha, Cristal, Simona, Alex G, Armida. E quindi dove siamo? A Taga, il nuovo negozio di Lepore Company. A Bari, sigla, Mambassa TV, nuova puntata. Allora, ciao Mambassa TV, nuova puntata, qui c'è Simona e Alex G. Allora, siamo a Bari per l'inaugurazione nel nuovo negozio di Armida Lepore, Tony Lepore, e Taga, qui la vetrina, con Simona, vestita... Vestita chiaramente Taga, in via Putignani, 14. E c'è il Cristobal che mi tocca, notate. Tocchi me o tocchi il vestito? Il vestito. Va bene, allora, dopo questa azione di disturbo di Cristobal, sul vestito di Simona, noi annunciamo un servizio realizzato un paio di venerdì fa, con le telecamere Piero Ricco al Giubilè di Corato. Il servizio realizzato... realizzato? Allora, abbiamo visto il servizio realizzato un paio di venerdì fa al Giubilè di Corato. C'erano Sandro Toffi, c'era Cristobal, ma questo non ci interessa assolutamente, e c'era chiaramente Piero Ricco dall'altra parte della telecamera. Adesso Alex deve dirci qualche cosina. Allora, stiamo cercando dei cameraman, quindi chiunque fosse interessato è munito di una telecamera digitale, può chiamarci a questo numero che adesso Piero sta inserendo, che è 0... no, non lo sta inserendo, che è 083221. Lui lo sa meglio? 21, 68, 61. Vedi, la classe non è acqua. Va bene, 3 per 2? Sì, pubblicità. Andiamo? Andiamo, vamos, eh? Che gioia stringere Cristobal. Sì, io ti strizzerei più che altro. Scusate, scusate, abbiamo un impegno... Abbiamo un impegno... Sivo, scusate, scusate. Abbiamo qui Armida Lepore. Ciao. Ciao. E stai anche bevendo alcolizzato in televisione, non si fa... Vabbè, a me piace un po' bere. Non sempre, però ogni tanto. Ti faccio l'intervista da chi vuoi essere l'intervista, da Simone, alla bellezza viola che porta a sfiga, oppure da Alex G? Eh, perché tu non puoi intervistare. No, c'è del microfono volentieri. Buon gustaglia. Eh, ma è una storia vecchia, fra me, a me. E poi mi metto da parte. No, no, allora, Armida, inaugurazione del tuo negozio, due domande veloci. Allora, questo è il tuo terzo negozio. Che noi finiamo. Senti, allora, che prodotto stai offrendo? Prima di tutto, a differenza degli altri, questo negozio è solo donne, esclusivamente dedicato alle donne. È un prodotto più alto rispetto agli altri. Abbiamo delle bellissime ditte, come Ortenilla. Qui ci sono le rappresentanti, terzo atto, Zinco, Angel Smele, Via De Ciclamini. E poi degli accessori molto belli, Angel, Gazebo e Joanna Gay. E comunque solo studio clavature, che è una maglieria molto carina. E poi, vabbè, ci sono io, ci sono le mie collaboratrici e basta. Va bene. E il negozio si chiama? Taga, by Leopore Company, in Via Puttignani. 18. Gra... A. A. A, 18 A, come Armida. A, come Armida, vi ricordate? Va bene, grazie Armida. Penso che fatti così. Da Bari è tutto. Ciao. Finale? Finale. Sì, Giobriaco. Bene, grazie, grazie ad Armida, Taga, Leopore Company. Tutta squallida su di me, perché so che sfotti sempre tutti. Ogni volta che ti vedo, su di me non hai niente da dire. Va, bastano le immagini. E comunque, grazie alle... E allora, bastano le immagini. Infatti, non so come facciano, guarda. Non lo so, è il fascino misterioso della delvigiana e del tubo catodico. Grazie. Dice ciao Piero Ricco, di ora della telecamera, Alex G, Armida, Simona, Cristobal. Alla prossima, ci risentiamo su Radio Manbassa, forse. E ci rivediamo altrove. Merci.